facciamo simo scatta scatta me l'hai fatta? papà va a traspare eccoci eccoci non vieni non si fa lavoro noi ci siamo c'è la famiglia me l'hai fatto più piano una cosa si trova dal papa mamma mia mi piace ma io non voglio andare ecco qua signora se a me passa così eh signora non è che posso saltare mi stanno facendo male mamma gira questa qua aspettate fatemi uscire permesso? come bene? mak Acting come bene? come si stanno a puttavia L'ultima spinta dell'anno, ci siamo fatti pure il selfie con Tamello, dai, andate qui, andiamo, vai! L'ultima spinta è l'unica cosa, col genoa per te, domenica, fatti, 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 fatti. Fatti, 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 f Grazie a tutti. 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 Pierino, puoi spegnere un attimo fuori? Perché? No, ma mi servo a me per vedere come sento qui. Ta 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 Schietta Ta ta Così va bene Ta ta È aperto fuori? È aperto fuori? No 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 La voce non va bene Fuori? Immagino di sì Si Quasi Si sente fuori? Si Sì Non state così Ditemi qualcosa Sì 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 Sì